Le manifestazioni di interesse per costituire la nuova società della regina calcio avevano scadenza entro le 13 di oggi. Saranno prese tutte in considerazione. L'obiettivo è portare la regina in serie C, quindi riportare il club amaranto tra i professionisti. Al momento, tra le varie proposte arrivate, la più importante risulta essere quella dell'imprenditore Stefano Bandecchi, proprietario di Unicusano per il 50% delle quote societarie, sindaco di Terni ed ex presidente della Ternana Calcio. Arriverà oggi pomeriggio il verdetto sull'acquisizione del club, escluso dalla Serie B a cui la federazione ha dato la possibilità di iscriversi in sovrannumero al campionato di Serie D. Spetterà dunque al comune di Reggio Calabria decidere quale sarà la cordata di imprenditori alla guida di un nuovo percorso sportivo per la regina calcio.